Grazie Sono stato in terza Ah Non posso incantare Non posso incantare Non posso incantare Ho un portagliari benissimo Per esempio Però il problema è che il portagliari che ho io Che non ha le chiavi Portagliari senza i chiavi Però è bellissimo Praticamente non posso incantare Erano le 10, 10 e mezzo Sono andato qui E' un bosco incantato E' stato vicino a Ostia Quando si è venuto sul bosco Ti sento tanti suoni Ehi E' così le mani Eh Allora questo è il bosco incantato Ogni volta che sentite la parola Bosco incantato Potete fare questo Sono solo guardando le due E' lì sono stato In un buono spinta Ma a un certo punto Nel bosco incantato Perché si Perché sono stato Nel bosco Incantato Cos'è Nel bosco incantato? Sicuramente Gli alberi Secondo voi E' quello che provano Settiamo una lomba Basta Che vi piace tutto? Secondo me è quello Anche perché l'abino è fatto di legno E ha tanti alberi ricco Allora nel bosco incantato C'erano tre alberi C'erano tre alberi Sovra gli alberi E' l'osco incantato E' l'osco incantato C'erano tre uccellini E' l'osco incantato E' lupo Perché ho fatto lui E' lupo Sentiamo un po' qui tra i luciocchi Vediamo cosa nemmeno Abbiamo anche gli scogliattoli, alberi, uccellini, scogliattoli, il mago, i cosi del mago. Vieni, sono spado del bosco di cavità, a trovare il mago, che abita nella foresta piena di alberi, ma sopra gli alberi c'erano gli uccellini, che hanno chiamato gli scogliattoli. Ma ecco che a un certo punto arriva il gatto! Arriva il lupo! Mi ha nascosto il portagliari e scappato! Io ho detto LUPO! Ho detto LUPO! Aiuto, al lupo! Aiuto, al lupo! Aiuto, al lupo! Aiuto, aiuto! E allora il mago? A questo punto mi ha detto che per trovare il portagliari magico, bisogna provare prima la formula magica, rifacendo lo stesso percorso, ma a questo punto può valutare il bambino. Tu! Prenditi la petta che mi sei portata da casa! Allora, adesso facciamo un po' di nuovo. Mentre Aleandra viene ferrata, voi in silenzio prendete gli strumenti e date posto. Ma state sempre vicino, ogni gruppetto così. Ok? Passate in silenzio e scappiate nel posto, ma sempre in gruppo. Allora, questo è un posto di campagna. Per trovare il mio portagliari magico dovrai avvicinarti agli strumenti giusti, agli strumenti giusti, agli strumenti giusti e ogni volta che raggiungerai il giusto strumento vincerai una parola magica. Adesso vi faccio evitare la parola magica. E poi, per la parola magica. E' un posto incantato! Io sono andato a trovare il magico. E' una parola magica. E' una parola magica. E' una parola magica. Grazie! Facciamo un applauso alla gamba! E' una parola magica. E' una parola magica. E' una parola magica. E' una parola magica piena di alberi. E' una parola magica. Bravissima! Anche questa. Ma sopra degli alberi, c'erano, vocemi. ma ecco che a un certo punto è arrivato il lupo io ho detto lupo, lupo, adesso io lo dico, armato, 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 Aleandra, armato, bravissima, l'olore del mango, gli alberi, sui capo, i trenuti uomini, vincitati, tutta la peste incartate, androvi, abbiamo fatto vincere tala la parola magica per provare il mio portaglio. facciamo tutti insieme pronti via facciamo tutti insieme gli strumenti che suoniamo solo sui pronti via c'è che significa? e sai dov'è? ragazzi mi hai da ricordare sai cosa è? sai stappo, sai stappo sai stappo, sai stappo sai stappo sai stappo è colpa ooooh